Gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il caro pedaggio di A24-A25 tornano alla carica. In un recente incontro ieri hanno deciso per una nuova manifestazione davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in caso di ulteriori silenzi da parte del Ministro Matteo Salvini. Il giorno previsto per la mobilitazione è il prossimo 23 marzo, quando i sindaci torneranno a Roma, in assenza di incontri e convocazioni prima di quella data ovviamente. Più di due mesi fa la richiesta a Salvini di un incontro con una delegazione del Comitato, da allora nulla, e dunque per gli amministratori è il momento di tornare ad alzare la voce. Si chiede una risposta definitiva anche perché il tavolo tecnico dello scorso dicembre era stato aggiornato a metà gennaio. L'incontro non c'è mai stato. Non sono bastate neanche le rassicurazioni del Presidente Marsilio, ricevuto dal Commissario Corsini, perché i sindaci vogliono certezze. Il succo è questo. Non basta dire che lavori si faranno, serve un programma certo e una soluzione chiara e definitiva. Le richieste sono sempre le stesse. Abbattimento tariffe, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle autostrade, vale a dire una messa di sicurezza importante. I pedaggi, come si sa, sono congelati al 2017 dopo il via libera del governo Draghi, ma il Comitato chiede un abbattimento di almeno il 50%, la gratuità per ripendolare i residenti in Abruzzellazio dopo il passaggio delle autostrade ad Anas e l'uscita di scena di strada dei parchi. Inoltre serve un piano serio di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le due arterie dal punto di vista sismico. Grazie. 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 Grazie.